Ciao a tutti ragazzi, sono DG Razzelix e bentornati su Assassin's Creed Syndicate, in particolar modo al DLC Jacky lo Sguardatore. Oggi vi spiegherò come si ottiene il trofeo Non hai paura. Per ottenere questo trofeo dovrete spaventare 200 nemici. Ai fini del trofeo non vengono considerati passanti e come ben sapete brutti, perché i brutti purtroppo non si possono spaventare. Per spaventare i nemici potrete usare qualsiasi mezzo proprio qui il terrore, come ad esempio i colpi brutali, le bombe del terrore e le punte. Ottenete questo trofeo durante lo svolgimento del gioco, anche se ci vorrà un po' di tempo, perché chiaramente 200 nemici sono tanti. Nel video vi faccio vedere diversi esempi, soprattutto gli ultimi che mi sono serviti appunto per ottenere il trofeo. Però ragazzi, qua vi potete proprio sbizzarrire, vi potete fare quello che volete per spaventarli. L'importante ragazzi è che ne spaventate 200. Per questo trofeo è tutto, vi lascio a questi brevi esempi di spaventare nemici, chiamiamolo così tra virgolette. Come al solito vi chiedo la cortesia di divulgare il canale fra i vostri amici, parenti, nemici, conoscenti, quello che vi pare. L'importante è che vi fate scrivere, se il video vi è piaciuto e se la spiegazione è stata chiara vi chiedo di mettere un mi piace, se non è chiaro qualche cosa scrivetelo pure in descrizione, non appena lo leggerò vi risponderò immediatamente. Per questo è tutto e vi ringrazio per essere stati con me fino ad adesso il vostro DJ e al prossimo video di Assassin's Creed, ciao ragazzi! Grazie!